Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Pilato disse a Gesù, sei tu il re dei giudei? Gesù rispose, dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse, sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? Rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re. Rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Carissimi amici, pace e bene. Con la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, re dell'universo, si conclude per così dire il ciclo festivo di questo anno liturgico 2017-2018. Settimana prossima inizierà con il tempo forte dell'Avvento, il nuovo anno liturgico e ricominceremo così a vivere e celebrare tutto il mistero di Cristo. Ma veniamo alla solennità di Cristo Re. La liturgia della parola ci presenta tre immagini, tre descrizioni davvero interessanti del regno di Cristo e della sua regalità. Il profeta Daniele, nella prima lettura, dice di aver visto nelle visioni notturne uno simile ad un figlio d'uomo. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno e il suo regno non sarà mai distrutto. San Giovanni, nella seconda lettura, tratta dal libro dell'Apocalisse, dice che Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutti si batteranno il petto. Infine, il Vangelo ci presenta il momento in cui Gesù, dinanzi a Pilato, per certi versi manifesta la sua regalità. Tu sei re, gli dice Pilato, e Gesù risponde. Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto al mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Tre modi differenti, allora, ma veri, di presentarci la regalità di Gesù in questa solennità. Ma oggi siamo chiamati a riflettere su ciò che noi pensiamo di Gesù, che tipo di re è per noi. Forse cerchiamo sempre di fuggire dall'assillo di una simile questione, perché molto spesso ci rendiamo conto di non riconoscerlo veramente come tale, di sentirlo distante o magari di trovare difficoltà a concepire una regalità che passi per la strada della passione e morte sulla croce. Ma l'Evangelista Giovanni è proprio in questo contesto che fa emergere la regalità di Cristo. Dove gli altri lo vedono fallire, lì Cristo troneggia su tutti i popoli della terra e governa le nazioni. Il mio regno non è di questo mondo. Apri gli occhi, lascia intendere Gesù a Pilato e vuole dire anche a ciascuno di noi oggi. Siamo fuori strada quando crediamo di trovare altrove la verità. E lui, il Cristo, la verità, il vero re. Allora come ci si deve comportare dinanzi a colui che è il re, colui che ci ha liberati dalla schiavitù, che fa nuove tutte le cose, che ha dato la vita per riscattarci, che è il Signore anche della mia storia, della mia vita. Una sola è la strada, l'amore. Vivere l'esperienza dell'amore di Dio. Lasciarci amare da Lui e amarlo e servirlo in tutte le cose che facciamo e in tutti i fratelli che incontriamo sul cammino della nostra vita. Auguri e buona solennità di Cristo Re a tutti. Pace e bene. Pace e bene. Pace e bene. Grazie.